Allora, con Francesco, il mio amico che cammina con me di oggi, ho conosciuto Anna, Angela e Gina. Io vorrei far vedere lo stacco di gambe di queste signore, i toste in gamba, fantastiche, perché qui si respira l'aria buona. Voi camminate, vero? Adesso Valenti, questo è quello che dice. Che qui si respira, stiamo meglio. Ma che belle che siete. Non ci stanno gli anni. Quanti anni, Anna? Io lo saprei. Eh sì, eh? Sono un po' pesanti. Occhione azzurro. 82. No vabbè, 82, una grinta bestiale, bastoncini accanto ai miei, fantastica. Invece Angela è un po' più signorina oggi, un po' più elegante, con il maglioncino, molto chic, devo dire. E allora, grande camminatrice anche Angela. Anche a me piace. Guarda che prima camminavo tanto io adesso. Ma si vede, ma si vede. Cara Gina, il bastone, il bastone con il rosario, per cui si ora e tlabora, si fatica e si prega. Sempre, sempre me lo porto il rosario. Sempre Piero lo porto. Questa prega per l'anima. Ma che meraviglia. Allora direi che Anna è un po' pestifera, eh? Anna è un po' quella più... Come sono, dimmi. Francesco se la ride con piaciuta. Guardate la scena di Francesco che se la guarda. Prendi con noi un po'. Dove? Se la portiamo qua. Allora, ascolta. Allora, Anna. Io sono qui a camminare e ho lanciato un appello. Camminate con me. Riapriamo adesso, finalmente, dopo questa chiusa, contente e felice a camminare. In televisione ci sentiamo. Ma guarda che io lavoro in televisione sul serio. Veramente. Eh sì. Quindi, signore, diventerete famose. Eh, scusate, eh. Mica siamo qui a fare pizza e fighi. Oh, questo lento. Ma che sta a fare oggi? Allora, Anna, aspetta, sei un po' pestifera. Voglio sentire un attimo anche la nostra Gina. Allora, Gina, quindi tu dicevi, il bastone, secondo te, tecnicamente, rispetto ai bastoncini. Funziona? Funziona, ma io la faccio funzionare poco. Perché tanto funzionano le gambe. Un jeans, scarpa da ginnastica. E invece c'è chi come Angela non ha paura dei rovi. Non ha paura. È vero? Lei tranquilla col vestitino, come se stesse al mare. Perché tanto quando la gamba è buona. Allora, signore, io vorrei, adesso che vi concentriate, e poi ci salutiamo, perché con Francesco abbiamo ancora un po' di strada da fare, il vostro segreto di lunga vita. I consigli di Anna per vivere bene, allegre. Camminare. Punto primo. Camminare, camminare. E mangiare poco. Mangiare poco. Brava. La devi sciupare. E sale. Locale. La prima cosa. E io non ci riesco a questo. Allora, allora, Anna che mi dice, ti vedo sciupata, perché come tutte le mamme, tutte le nonne. Però bisogna mangiare poco, giusto Angela? Sono perfettamente a cosa. Però non lo faccio. A villagliare, bisogna mangiare poco, ma non lo faccio. Che lo facciano gli altri. Perché voi, camminando, oh ragazzi, che ore sono? Si smaltisce, no? Sette e mezza. Cioè, scusate un attimo. Sette e mezza. Alle sette e mezza di mattina, sei signore, meravigliose. Ma da dove state venendo? C'è anche un fatto colazione, sono le cose. È così, loro camminano. Quanti chilometri fate al giorno, ragazze? Eh, non lo so quando gli chilometri fate. Quattro, massimo. No, vabbè, adesso non ti buttare giù, Gina. Io sono sicura. Qui sono quattro andare e quattro tornare. Vero? È più o meno. Allora, andiamo seri. Angela, il tuo segreto, quindi dici, mangiare poco. Eh, però? Eh, già gliel'ho detto. Però mangiano poco gli altri. Ecco, questo ce l'ho da mangiare. Cara Gina, un tuo consiglio per vivere felici e in armonia? Non mangiare mai i fritti. Ecco. Non mangiare? Mai i fritti. Eh, una volta ogni tanto. Eh, qualche volta. Però gli arrosticini. No, qualche volta. Ma quelli sono arrosto. Quelli sono arrosto. Però i fritti. Voglio rispondere. Non è che non è vero. Però qualche volta fa bene anche al figato. Eh, va bene. E poi fa bene allo spirito. Una volta proprio. Lo sposto veramente. Allora. Fa il fiore di zucchine, non lo so. Cara Anna, io direi così. Oltre ai fritti, io penserei questo. Possiamo riassumere questa nostra bellissima puntata di chi cammina con me insieme a queste stupende signore dicendo che consigli di lunga vita e di tanta allegria. Vogliamo dire la vostra età pure per appaiarci ad Anna. Vai Angela. 78. Portati tutte benissimo. 75. Fantastiche. 75, 78, 82. Questa ragazze è una sorpresa. Poi Francesco vi dirà tutto ma attenzione. Allora. Mi raccomando camminate molto. Mi raccomando mangiate poco. E pregate. Perché insomma no? Ecco mi sembra che il rosario. Una vita di salute. Che meraviglia. Guardate un po'. Adesso siamo appena svalicati su questo tratto d'asfalto. Ma a volte Francesco stare sull'asfalto è come stare su un sentiero. quando si sta in mezzo alla natura e si incontrano delle camminatrici di lunga percorrenza. Svivo noi. Allora signore dobbiamo dare un saluto. Un saluto speciale. Come si dice da queste parti? Arrivederci. Grazie Valentina e arrivederci. Grazie Valentina e arrivederci. Ci piace. A subito arrivederci. A subito arrivederci Angela. A presto. A presto. E noi a Roma diciamo tante care cose. Bace ai pupi. Salute ai tuoi. Ecco. E arrivederci. Tanto noi i baci stanno così. Esatto. Evviva le nostre amiche a Cammina con me.